Seconda parte di Trading Room, siamo in compagnia di Federico Izzi, trader ciclico con noi. Ciao Federico, come stai? Ciao Emet, buongiorno a tutti. Allora senti, mi hai già inviato tanti grafici e come sempre i tuoi grafici, insomma ci sono tante cose di cui discutere. Dimmi tu da quale cominciare, vedo un ciclo a due anni, non so se è quello da cui vuoi partire Federico. Sì va bene, partiamo allora dal ciclo a due anni che poi è il riferimento dell'attuale ciclo annuale. Il grafico che ti ho mandato è riguardo il future dell'Eurostop, ciò di riferimento europeo, ma va bene anche per prendere come riferimento operativo anche per il nostro pulsibibro, comunque come in DAX. Allora, cosa stiamo vedendo? Vedo un ciclo a due anni, 95 giorni e 95.8. Mi sembra che non siamo neanche arrivati a metà, la metà dovrebbe essere intorno a febbraio 2017 in base ai tuoi calcoli, giusto? Esatto, hai interpretato benissimo questo grafico. 95 e 96 giorni sono i due sottocicli che si sono già formati, sono conclusi, l'ultimo appunto con il minimo dei primi di novembre. E ora siamo esattamente sul terzo, un ipotetico terzo sottociclo trimestrale che, come dicevi tu, dovrebbe terminare entro febbraio. Cioè in base al tuo grafico, correggimi se sbaglio, vedo una spike rialzista, che suppongo sia quella degli ultimi giorni, che dovrebbe segnare un massimo per poi cominciare a scendere fino ad arrivare a un nuovo minimo appunto in febbraio 2017, giusto? Esatto, perfetto. Piano piano, ci stiamo a dire. Bisogna dire, bisogna chiarire che questa è un'ipotesi, però al momento, ecco, l'unico segnale non del tutto chiaro è proprio stata la rottura di questo movimento rialzista, perché i primi precedenti due sottocicli, appunto i trimestrali di 95 giorni circa, si sono fermati tutte e due le volte, anzi per cinque volte addirittura hanno sbattuto contro l'esistenza del 3100. Invece questa settimana la resistenza appunto del 3100 è stata violata molto facilmente e questo ha dato anche il via a questo rally al quale stiamo assistendo in un'ottica di medio periodo, in un'ottica settimanale comunque mensile. Ok. Allora, questo grosso modo è il ciclo a due anni e l'attuale posizione dei mercati finanziari nel ciclo a due anni. Cosa facciamo? Stringiamo, andiamo sui volumi, sul big stocks lungo, dimmi tu. Va bene, passiamo dai volumi. Ecco, il rialzo che c'è stato in questi ultimi giorni, questa settimana in particolare, i volumi si sono stati, hanno accompagnato questo rialzo. Ora c'è da scendere i volumi sul nostro mercato domestico, sul Futsimib e i volumi in ambito europeo. Perché? I volumi sul Futsimib sono attenti, erano attenti, assistevamo a un movimento così forte, rialzista in acquisti, dall'estate del 2015. Ora non è che una settimana può cambiare una view appunto così lunga, però è un primo segnale. Ora bisognerà poi trovare conferme nelle prossime settimane o meglio nei prossimi mesi. Però è un primo segnale. Perché la differenza? Perché in Europa invece con i minimi di inizio anno, minimi del febbraio appunto, lì invece erano tornati in acquisto, tant'è che i volumi sull'Eurostox danno una tendenza rialzista. Ora, ecco, siamo in una fase molto delicata perché arriviamo dai volumi del nostro Futsimib, bassissimi in una tendenza fortemente ribassista dall'estate del 2015, che insieme a quelli appunto dell'Eurostox che sono rialzisti dal febbraio di quest'anno, in questo momento si sono allineati per la prima volta nel 2016. È un segnale, è un segnale di forza che comunque ha sostenuto, ripeto, quest'ultimo rally di quest'ultima settimana. Però è meglio aspettare e trovare conferme. Anche perché, ecco, come vedevamo poco fa insieme, Emerick, il ciclo annuale, se correttamente impostato, dovrebbe terminare nel primo trimestre appunto del nuovo anno. Allora, guarda, buongiorno Emerick, volevo chiedere al dottor Rizzi cosa stanno facendo le mani forti, lui è un grande esperto in tal senso, grazie Claudio. E dunque, torniamo sul grafico che abbiamo appena visto, perché in base all'analisi che hai fatto tu, le mani forti, che sono queste qua in blu, spero che alla tv si distinguano, queste sono in blu, qua è l'andamento del nostro Feb, e quelli rossi, ahimè, siamo noi poveri parco buoi, come li definisce Izzi. Praticamente, in base all'analisi dei volumi che tu hai fatto, le mani forti stanno acquistando? Hanno acquistato, questo rialzo di questi ultimi giorni hanno acquistato, anche perché comunque si può vedere benissimo dal movimento che è stato fatto dai prezzi, cioè un movimento così forte dei prezzi, dove c'è un rally, sul nostro Putsimib sfiora il 14%, sull'Eurotox siamo attorno all'11%, dai minimi di fine novembre, del 29 novembre, è un movimento forte. Ora, questo è dovuto sia agli acquisti, ci sono stati comunque degli acquisti che hanno girato questo movimento, e poi anche dalle ricoperture di chi era ribattista. Nel grafico ciclico, Emerick, avevo indicato due range dove si può notare come i prezzi erano compressi fino a lunedì scorso, fino a lunedì, martedì di questa settimana, in un range sull'Eurotox dell'8%, un 8% dove i prezzi hanno oscillato negli ultimi mesi e ora l'uscita dal canale di Assista, e questo ha generato indubbiamente delle ricoperture, delle forti ricoperture di chi era ribasso, in un'ottica di medio-lungo periodo. Che però, appunto, ricoperture più acquisti stanno dando questo segnale molto violento degli acquisti, anche delle manifosti. Ora, ripeto, siamo agli inizi, è meglio aspettare, anche perché stiamo analizzando un grafico volumetrico di ampio respiro, di un anno, un anno e mezzo, perciò non è che una settimana modifica la struttura. Però, come ho fatto notare poco fa, il movimento che è stato fatto a rialzo è un movimento che sul Fuzzimib non assistavamo da più di un anno. Allora, vedo in ultima istanza, siamo quasi in chiusura, però non posso non far vedere ai nostri telespettatori il tuo grafico sull'S&P 500. Poi facciamo un recap, insomma, di tutta la strategia. Parliamo non dell'S&P 500? Ecco, l'S&P 500... Tra l'altro, GIF animata mi hai mandato pure. Ti ho mandato una GIF animata che ho pubblicato all'inizio di settimana sul mio canale social. Perché? Più che altro per dare il senso di movimento che sta avendo l'S&P 500, in particolare nel mese di dicembre. Perché il mese di dicembre, statisticamente, è caratterizzato, tutti l'attendono per i rally di Natale. Un rally di Natale che si sviluppa nella seconda parte del mese, dopo il 15-20 dicembre. Comunque, nell'ultima fase finale dell'ultimo mese. E cosa caratterizza il mese di dicembre? Che l'inizio, le prime due settimane, i prezzi ritracciano, comunque non danno un segnale rialzista. Questo dovuta a tanti fattori. E comunque, diciamo, i prezzi stazionano, anzi, hanno statisticamente un movimento ribattista, di ritracciamento. Non proprio il movimento ribattista. Questo quest'anno non si sta verificando. L'ho preso come riferimento, ripeto, questo su base statistica, ma mi sono ristretto agli ultimi cinque anni. Gli ultimi cinque anni, infatti, hanno confermato questa statistica, che nei primi 15 giorni c'è stato un movimento di ritracciamento tra il 2 e il 5%. Questo nel 2016 non è avvenuto, anzi, con i movimenti degli ultimi due giorni, dove l'SP500, insieme a tutti gli altri indici azionari americani, ha aggiornato i massimi assoluti. è l'unico movimento di ritracciamento che è stato nei primi giorni, a cavallo tra novembre e i primi giorni di dicembre, ma solamente dell'1%. Certo. E questo anche su base statistica, in questo momento, assolutamente, non abbiamo nessun riscontro. Allora, dammi il recap di tutta la strategia per fine anno o, se vuoi, inizio febbraio 2017, tutto in 15 secondi, che dobbiamo chiudere. Sì, certo. In 15 secondi, allora, quello che sta accadendo, appunto, in queste ultime ore, oramai, io penso che, come se Bambu Natale fosse già passato sui mercati azionari, perché abbiamo l'S&P 500, che da inizio anno sta segnando circa il 10% di rialzo, un rialzo, appunto, come dicevo poco fa, Putsimib, Eurostox, tra l'11% e il 14% in pochi giorni. Mettersi a rialzo da questi livelli, se non in un'ottica intraday, sinceramente vedo che ci sono poche ambizioni di target. Perciò aspettare eventualmente, e comunque chi ha avuto appunto la bravura di mettersi, di sfruttare questo rialzo, non credendo, appunto, alle voci che davano ribassi catastrofici dopo il referendum italiano, di iniziare a prendere comunque profitto. Ok. Allora, qualche chiarimento su dove parte il ciclo a due anni, in base alla strategia di Itzi. Itzi l'ha fatto partire l'11 febbraio 2016. l'ha diviso, il ciclo a due anni l'ha diviso per il primo anno, in tre trimestri, 95 giorni, eccolo qua, il primo ciclo, il primo sottociclo, 96,8 il secondo sottociclo, e praticamente il terzo sottociclo arriverà a febbraio 2017 a completare un anno, per poi far ripartire l'altro anno del rimanente ciclo a due anni. Insomma, questa è la strategia di Itzi. Senti Federico, noi come sempre dovremmo darti decisamente più tempo per discutere di tutte le strategie, anche per venire incontro a tutti gli sms dei telespettatori, perché comunque l'analisi ciclica piace. Lo faremo la prossima volta che ci sentiamo. Grazie intanto Federico. Grazie a te Emerico, comunque sei diventato bravo che la prossima volta ti mando i suoi ammetti in grado. Grazie, così li dico io. Grazie mille. Federico Itzi, alla prossima. Grazie a tutti. Grazie a tutti.